Sottosegretario Danuntis, tra Bocchi Line un'opportunità in più non solo per la costa di Tredabocchi ma anche per l'Abruzzo per il lanciare questa stagione turistica? Per tutto l'Abruzzo sicuramente, è una nuova iniziativa che la Regione Abruzzo insieme a Trenitalia metta a disposizione dei cittadini e dei turisti. Si aggiunge ad alcune iniziative che avevano visto già la nascita del mese di giugno, questo in particolare permetterà di collegare la città di Pescara con Termoli a traverso tutte le fermate che sono lungo la direttrice e così permetterà di godere delle nostre bellezze, di effettuare delle escursioni in bicicletto a piedi e di gustare le qualità enogastronomiche nel nostro territorio. Si parla di 20 collegamenti, quindi insomma il numero è abbastanza importante. 20 collegamenti giornalieri che poi diventano 16 nella domenica, quindi sicuramente un servizio completo che potrà consentire a coloro che vogliono godere del nostro territorio di apprezzare tutte le nostre bellezze e le nostre peculiarità.